Buon mercoledì 16 dicembre. Proseguendo il ragionamento di ieri mattina relativo a ciò che sta accadendo nel nostro tempo tra assembramenti, divieti, annunci, strategie che poi vengono meno e ne vengono proposte altre, mi sovviene un curioso episodio apparso sulla rete ieri nel sito di Repubblica. Nel quotidiano bollettino sull'andamento dell'epidemia che viene pubblicato su Repubblica tra le 17 e 18 pare un titolo dove si indicano il numero delle persone che sono risultate positive e il numero delle persone che sono stati sottoposti a dei tamponi e il numero dei morti. E poi viene scritto con carattere di allarme il 18% nel Veneto. È chiaro che il 18% di fronte a medie nazionali che oscillavano nei giorni precedenti tra il 9,9, 11, 12% è molto. È chiaro che questo genera allarme. Non è un caso che persone che sono particolarmente in ansia per il fenomeno dell'epidemia fermo restando che tutti siamo chiamati all'estrema prudenza che poi vedremo è feconda e foriera di una indicazione precisa di cambiare radicalmente il nostro stile di vita la nostra visione la nostra forma mentis questo che oggi noi siamo chiamati a fare mi fermo qui su questo aspetto 18% poi sapete ormai io dei titoli mi fido molto poco anche degli contenuti a volte c'è da dubitare quindi bisogna andare a fondo delle notizie anche se il procedere veloce dell'informazione su internet impedisce proprio di applicare una coscienza critica nei confronti di ciò che si legge è chiaro che si crea una rappresentazione della realtà che diventa nel sentire comune qualcosa di estremamente oggettivo le cose stanno esattamente così quindi è inutile discutere questo è il punto allora quel 18% non si riferiva al numero di positivi rispetto ai tamponati in Veneto perché l'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati in Veneto era ben più bassa tra i 6-7% adesso non ricordo se era 6,3 o 6,8% ma comunque nettamente inferiore rispetto alla media nazionale interessante come dopo circa un'ora vado a rivedere quella postilla al titolo sparisce che cosa era accaduto per quale ragione un giornale molto importante che dovrebbe essere garanzia anche di serietà indipendentemente dalle opinioni espresse condivisibili o non condivisibili si lascia andare a queste forme di rappresentazione della realtà e siccome non penso si tratti di persone sciocche il sospetto è che ci sia una dimensione culturale sto parlando di complotti assolutamente dimensione culturale che insiste su una posizione e siccome queste dimensioni culturali non sono mai prive di interessi economici credo che sia giunto il tempo che cominciamo a comprendere quale strategia politica si sta subordinando a un disegno economico e a un modello culturale che ci vuole contemporaneamente assoggettati alla paura e contemporaneamente propensi al consumismo questo è il punto fondamentale per chiarire quel 18% nella giornata di ieri il 31% dei tamponi rispetto a tutti quelli effettuati in Italia sono stati effettuati nel Veneto e nonostante il Veneto abbia fatto così tanti tamponi il numero complessivo è nettamente inferiore al 31% è il 18% quindi semplice logica numerica è ovvio che in Veneto l'incidenza delle persone positive rispetto ai tamponi effettuati è nettamente più bassa allora per quale ragione si è voluto mettere in evidenza questa condizione drammatica del Veneto guardate io non sono un fanatico del Veneto sono nato in questa terra le mie origini sono su questa terra ma francamente non sopporto queste inventate autonomie regionaliste e trovo veramente delle idiozie né mi immagino naturalmente di razza veneta come qualcuno continua a insinuare assolutamente però un po' di onestà in ciò che si dice lo pretendo soprattutto da chi si pone culturalmente e si definisce progressista anche se questa parola non mi convince più poi c'è la questione dei morti che nel Veneto indicava ieri un numero abbastanza elevato il che costringe Zai a precisare che in realtà erano stati caricati i morti del giorno precedente che erano stati indicati 21 nel giorno precedente quindi non erano stati caricati gli altri morti ecco tutto questo gioco dei numeri e degli allarmismi che potete trovare anche nei talk show che sono pervadenti ci diano un buon film un buon documentario una trasmissione d'arte di cultura facciano vedere dello sport ma per favore per favore questi conduttori di talk show si prendano un periodo di vacanza fa bene al paese se lo fanno allora ritorno sul ragionamento di ieri perché queste modalità di costruzione della realtà che sta caratterizzando l'epidemia è facilmente estendibile a tutte quelle condizioni umane nelle quali vi è una grande sofferenza sofferenza per la malattia per il disagio esistenziale anche tutte queste condizioni trovano spiegazioni sempre molto approssimative altra notizia di Repubblica di ieri il World Economic Forum ha sostenuto attraverso un rapporto che i paesi che hanno retto meglio a questa epidemia sono la Nuova Zelanda l'Olanda i paesi nordici e gli Stati Uniti sorprendente affermando che questi paesi si sono caratterizzati attenzione da un forte sistema di tutela sociale da un sistema sanitario ben funzionante e da uno sviluppo dell'economia digitale altro messaggio guardate intanto trovo piuttosto poco probabile che gli Stati Uniti possano essere annoverati visto il disastro che è avvenuto tra i paesi che hanno affrontato meglio l'epidemia non solo ma che gli Stati Uniti soprattutto negli ultimi anni abbiano rinforzato il proprio sistema di tutela sociale e sanitario beh questo lo trovo francamente ridicolo affermare questo certamente gli Stati Uniti parte più ricca del mondo è caratterizzata da una economia capitalista che tende sempre più a spostare il proprio potere sul mondo virtuale sull'economia di finanza sulla digitalizzazione allontanandoci sempre più dalla condizione reale e attenzione perché le narrazioni sui miracoli della tecnica nei confronti della salute mentale si susseguono continuamente cercano di convincerci che la parte più rica del mondo ci sa fare anche se in realtà questa parte rica del mondo rappresenta la genealogia dell'attuale angoscia esistenziale dell'attuale stato d'ansia del crepuscolo dell'umore dell'induzione di stati psicotici che derivano dal fatto che il rapporto tra soggetto e ambiente è sempre più traballante che le relazioni sociali vengono recise si mette in esilio il soggetto rispetto alle sue naturali condizioni sociali è totalmente sparito il punto centrale l'aggressione che l'umano ha fatto nei confronti della natura in quanto elemento lui stesso della natura determinando quello che abbiamo sempre detto mutamento climatico acidificazione degli oceani deforestazione scioglimento dei ghiacci inquinamento ecco tutto questo è il risultato di un delirio di onnipotenza dell'umano nei confronti dell'ambiente che lo ospita e di cui fa parte è un errore di visione quella che ha messo in piedi l'essere umano che oggi sta manifestando anche nella gestione di questa epidemia e allora ritorniamo a un discorso sobrio attento giustamente allarmato ma nei confronti delle condizioni sociali e ambientali che stiamo vivendo si abbia il coraggio soprattutto la generazione di noi vecchi di rivedere radicalmente il modello di società che abbiamo proposto e che abbiamo insinuato nelle generazioni che sono venute dopo di noi vecchi ne abbiamo una gravissima responsabilità e credo che credo che dobbiamo assolutamente porre mano a una trasformazione che si rende necessaria posto che alcuni cambiamenti si sono fatti anche in parte irreversibili e quindi dobbiamo assolutamente trovare il coraggio e l'umiltà allo stesso tempo di proteggere la vita non solo quella di noi vecchi ma anche e soprattutto delle generazioni che verranno alle quali non possiamo consegnare un debito enorme ma non solo economico ma soprattutto legato al degrado ambientale quindi oggi anche nelle prossimità delle feste di Natale cerchiamo di testimoniare con convinzione e passione che un modo diverso di vivere è possibile non lasciamo nessuno solo nessuno anche se c'è il distanziamento moltiplichiamo i contatti anche attraverso la tecnologia rassicurando il prossimo che non sarà la tecnologia a sostituire la nostra relazione umana autentica passionale corporea ritorniamo ad amare autenticamente veramente senza inganni poniamo alla centro delle nostre priorità la dimensione dell'amore perché questo è il senso del Natale nasce il figlio dell'uomo il figlio di Dio che si è incarnato per annunciare la fine della vecchia legge patriarcale padronale e che poi progressivamente si è trasformata una legge che attraverso il diritto del singolo individuo umano ha negato il diritto ecologico sostituiamo questa legge con la legge dell'amore dell'amore con tutta la nostra interezza che è anima corpo spirito psiche amore verso Dio per i credenti verso la vita per tutti credenti e non credenti è amore verso il prossimo nel quale pur nella infinita diversità si incarna la vita anche nelle condizioni più sgradevoli che può essere un disturbo del comportamento le incomprensioni relazionali ecco che allora usciamo da questa condizione di assoggettamento collettivo di pedagogia al consumismo e alla dissipazione contemporaneamente con una retorica della rassicurazione che è assolutamente ridicola ma questo lo possiamo fare solo se noi ci impegniamo cominciamo a ritornare a essere protagonisti anche e soprattutto a partire dalle condizioni più problematiche che stiamo vivendo e che non possiamo e non dobbiamo consegnare la potenza della tecnica cioè la tecnica la useremo ma rimaniamo noi autenticamente presenti protagonisti e responsabili della nostra esistenza buona giornata grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti